Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazzo Crew E oggi siamo qui per una sfida incredibile, una sfida molto divertente, una sfida bagnata Ho dato una lezione agli illuminati crew Intanto ringrazio Fanta che ha collaborato a dare un twist alle nostre sfide, alle nostre challenge Con il nuovo gusto Limone e Fiore di Sambuco Io adesso vi lascio alla Parada Challenge in piscina, vi lascio al video Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazzo Crew Vi starete chiedendo perché siamo in piscina e perché siamo tutti bagnati Allora ragazzi, perché? Fatta già sfidare un nuovo twist per rendere più divertente la nostra challenge Con il nuovo gusto Limone e Fiore di Sambuco E ragazzi, noi adesso faremo la Parada Challenge In acqua, dentro la piscina, mai fatto da nessun altro youtuber Nel mondo Per renderla ancora più divertente Fanta ci ha dato un nuovo twist E metterò la nostra schiera Da Pappangalo Vettimelo like e un prossimo video Insieme a Illumina di Crew in piscina Ok ragazzi, iniziamo la nostra schiera Faremo tre tiri a testa e chi segnere più vince Quindi ragazzi, sono pronto, adesso metto la maschera Iniziamo Pappagalo 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 Dai spawn Spawn Oh se ti segna jump it è più veramente No, non vuoi segnare jump it Oh ragazzi, il colpo segreto Allora, è un pappagalo, adesso sarà un pappagalo Ragazzi, il tiro del camionista è quello che mi ha fatto segnare l'altra volta Adesso partiamo con un tiro normale e poi ci saranno i tiri speciali Non vede niente Allora, è dentro, è dentro Ecco Non vede niente Lui non fa la sposta, la sposta Ma che è? Ehi Oh Ragazzi, lo schiaffo della sposta Oh 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 Da qui, per di arrivare a essere la posta Oh Oh Vai 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 Tiro del attivista Oh Oh Viene la mano, viene la mano, vieni la mano, vieni la mano a dietro Oh 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 No Oh No Oh 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 L'avevo anticipato un'ora dei miei aggettivi speciali Brazo Non vedi Sei sempre con speria che non vedi Ah Non vede E si Oh Allora ragazzi, terzo e ultimo giro, passo a loro, la maschera, ma si vede benissimo da qua, Eeeh, che scazzo, è dritto, è dritto, è dritto, è una gallina, non sei l'altra, attenzione, non si capta la differenza, attenzione, Io vorrei sentire della, stupi, do sabes, raffreddo, riserva, è dritto, non si capta la promessa, Eeeh, che cosa dopo ? Che t Saskia può fare ? Non mi vuoi fare , non mi vuoi fare il T insight, trattato inentliche, Attenzione, non c'è mai da nulla, tirate le rettolze! Questo è il tiro del gemolo! Allora ragazzi, facciamo del video di quanti qual l'avete fatto, chi ha segnato? Dove! Eee vabbè, facciamo che ha vinto lo sport e l'amicizia ragazzi perché siete veramente euforici! Ragazzi scusate ma non ho qualche distinzione... È un giro per questo! Ok ragazzi, anche questa sfida è finita e ringrazio Fanta per averci fatto divertire con questa sfida Lasciate un like per una nuova sfida Insieme all'illuminati crew Lasciate un commento qui sotto E scrivete cosa farete per dare un nuovo twist Alla vostra estate Con l'hashtag confantatwisto Allora ragazzi vi ringrazio Ringrazio quanto ancora Un grande grandissimo abbraccio E al prossimo video